Credo che quello che si è visto maggiormente è la consapevolezza che siamo capaci di grandi cose, c'è tanta positività nel gruppo e si sono visti dei ragazzi che magari finora non avevano dimostrato molta maturità, invece si sono fatti trovare pronti e hanno fatto vedere che anche sul palcoscenico internazionale sono pronti e possono performare ad altissimi livelli. Ormai la sfida di Natale e il derby è un must, è bello perché c'è chi è rimasto fuori dai test di novembre e vuol dimostrare che magari il Citi nazionale ha fatto la scelta sbagliata e in più ci si gioca il sorpasso in classifica, quindi è una sfida molto importante, loro vengono da due vettori importanti in Coppa, però credo che la sfida che abbiamo avuto noi con la Champions Cup ci ha veramente preparato con due gare durissime contro il Tolosa che sicuramente ci aiuteranno quando giocheremo prima contro Treviso e poi Edimburgo in casa tra due settimane. Credo che sia fondamentale come le Coppe Europee quando giochi in Champions Cup come un test match, il ritmo, la fisicità, ogni squadra gioca a un rugby di altissimo livello e si è visto questa settimana. Basta pensare che il Lens ha dato 60 punti al Northampton in casa, quindi sono partite che se non la prepari bene, mentalmente non sei pronto, l'altra squadra ne approfitterà sempre e credo che per la crescita sia fondamentale che continui il nostro percorso sia in Pro 12 anche nelle Coppe Europee. Credo che sarà una partita che verrà giocata molto tattica, verrà giocata molto al piede perché nessuna delle due squadre si verrà a scoprire. Sarà fondamentale vedere come saranno le fasi statiche, sarà interessante la sfida secondo me in mischia chiusa e credo che, sai, vincerà chi farà meno errori, chi sarà magari un pochino più disciplinato attorno ai punti d'incontro, credo che sarà lì dove si giocherà la partita. Beh sì, se vinciamo sicuramente sarà un bel Natale, se perdiamo non ne sono tanto sicuro, però sai, dicono che gli unici derby che contano sono quelli che vinci, quindi speriamo che vada così.